Buongiorno a tutti, mi ringrazio non poter essere presente alla presentazione del primo rapporto dell'Agenzia del Demagno, ma impegni internazionali mi tengono lontano dall'Italia. Saluto il Direttore Dalverme e tutti i dirigenti e funzionali dell'Agenzia che prestano un fattivo contributo all'economia e alla gestione di un importante settore dell'amministrazione pubblica. Rivolgo un saluto anche a tutti gli ospiti presenti in sala. Stiamo attraversando un contesto che continua a essere complesso e in rapida evoluzione. Nonostante le molte difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare, l'economia italiana mostra una notevole resilienza che nella prima parte dell'anno ha consentito di superare meglio di altre economie europee le recenti crisi. I segnali positivi che abbiamo raccolto devono però essere uno stimolo a lavorare sempre meglio per proseguire la realizzazione di un'economia ancora più competitiva e resiliente agli sciocche che potrebbero ripresentarsi in futuro. La crisi energetica che abbiamo attraversato recentemente è solo l'ultimo degli eventi che ci ricordano l'importanza di una gestione attenta delle risorse energetiche e ambientali. Il tema dello sviluppo sostenibile è infatti al centro del dibattito pubblico internazionale da molti anni. È ormai ampiamente condiviso che il benessere e il progresso della società non possano prescindere da valutazioni che tengono in debito conto anche le dimensioni sociali e ambientali dello sviluppo. L'Italia è pienamente consapevole delle sfide che l'attendono e anche attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta implementando molti interventi finalizzati a favorire la sostenibilità, l'innovazione e la transizione digitale. Il raggiungimento di questi obiettivi non può prescindere dal contributo del patrimonio immobiliare pubblico. In questo contesto la Università del Demanio ha saputo bene interpretare i tempi rivedendo le proprie attività per fornire un adeguato supporto l'autorità politica nella adozione di politiche di gestione coerenti con gli obiettivi previsti in ambito nazionale e internazionale. Il rapporto che oggi viene presentato evidenzia che una gestione efficiente del patrimonio pubblico può creare una nuova ricchezza, rispondere alle esigenze della collettività, contribuire a rigenerare territori e in un ultimo conseguire risparmi di spesa. I dati presentati illustrano molto bene la molla di lavoro che l'Agenzia sta sviluppando per realizzare la propria mission. Scorrendo il rapporto ho potuto notare non solo l'incremento numerico di interventi e valore degli investimenti effettuati nel periodo di riferimento, ma anche l'ottima progettualità connessa al recupero di aree da tempo abbandonate in molte zone del nostro Paese. A tal proposito ritengo molto importante la scelta di avviare un coordinamento con le amministrazioni territoriali, finalizzato alla definizione di un percorso sistematico e condiviso, che consente di ottimizzare l'uso degli immobili pubblici e delle aree demaniali, superando una visione frammentata e atomistica che per troppo tempo ha ostacolato una reale valorizzazione del patrimonio pubblico. Funzionale alla realizzazione delle finalità è inoltre la trasformazione digitale dell'Agenzia, che presentata come uno dei pilassi della sua azione, aumenta la conoscenza del patrimonio e consente di migliorare le attività di monitoraggio, gestione, pianificazione e sviluppo degli immobili in chiave di sostenibilità. La realizzazione di questo complesso insieme di attività richiede il forte impegno della struttura, chiamata sia a valorizzare le competenze già presenti, sia ad arricchire il proprio bagaglio per sopperire le nuove funzioni che progressivamente è stata chiamata a svolgere. Il nuovo corso che l'Agenzia del demagno avviato, ispirandosi ai più avanzati approcci di property management, nonché alle migliori pratiche internazionali, può generare ricadute positive e misurabili sul territorio in termini di funzionalità, sostenibilità e competitività del nostro sistema socioproduttivo. Concludo il mio intervento ringraziando ancora una volta il personale dell'Agenzia per il servizio reso alla collettività. Vi auguro un buon lavoro e una buona giornata.